Era il big match di giornata e non ha deluso le aspettative. La sfida fra Gallicano e Polisportiva Capannori ha riaperto a tutti gli effetti il discorso campionato di seconda. Il Capannori si è presentato in Garfagnana primo a 48 punti, il Gallicano secondo a meno 4. Ne è venuto fuori un incontro senza storia finito 2-0 per i Garfagnini che convincono e portano a casa tre punti importanti per l'aggancio in classifica sui biancorossi lucchesi. I gemelli del gol Bruciani e Dentoni Anfledini con un gol per tempo decidono l'incontro e portano tre punti alla causa bianconera Garfagnini. Il match poi nei minuti finali diventa ancora più agonistico e vede due espulsioni nelle fila del Capannori. Escono dal campo prematuramente Simonetti e Garofalo. Campionato che come detto si riapre non solo alle dirette contendenti della gara di ieri ma anche a Corsagna e Molazzana ormai a ridosso delle prime della classe.